Allora ragazzi, velocemente, è finito il primo tempo sia dell'Under 23 che della Juventus femminile, l'Under 23 sta vincendo 3-0 con doppietta di compagnone e gol di Brienti anche, e la Juventus femminile sta vincendo per adesso con l'Inter 1-0. Allora, oggi ho guardato il primo tempo della Juventus femminile, stanno giocando bene, speriamo bene per il secondo tempo, non potrò vederlo perché sto andando a lavorare, quindi niente. Ciao ragazzi, ci vediamo stasera con il post partita di Juventus-Atalanta-Juve.